Quando viene l'appetito, è il momento di cibando. Basta avviare l'app, fare un cerchio sulla mappa e trovare, tra tutti i locali nelle vicinanze, quello più adatto alle tue esigenze. Quando viene l'appetito, c'è bisogno di cibando. Splendide foto da condividere e informazioni dettagliate sui locali aiutano la scelta. Con l'acquolina in bocca poi, potrai chiamare per prenotare o farti guidare direttamente fino all'ingresso del locale. L'appetito viene cibando! Grazie per la visione!